Ciao amici di Space TV, anzitutto partiamo dal presupposto che l'aeroplano è costruito ed è assolutamente sicuro. Un aeroplano civile, sia piccolo che grande, ha delle garanzie di robustezza strutturale e soprattutto ha delle garanzie di durata tali che consentono la sopravvivenza dell'equipaggio e anche dei passeggeri in caso anche di un impatto con il terreno. Il seggiolino riettabile normalmente installato sui velivoli militari è un sistema complesso e molto costoso, richiede una manutenzione importante e soprattutto richiede addestramento da parte dell'utilizzatore, i piloti vengono formati all'utilizzo del seggiolino riettabile, bisogna avere una certa posizione durante il lancio ed è un sistema anche che espone il pilota a un rischio potenziale di danneggiamento della colonna vertebrale. Quindi non è un sistema considerato idoneo e che è possibile installare sugli aeroplani di linea. L'aeroplano di linea nonostante tutto è estremamente sicuro, quindi la nostra garanzia di sopravvivenza è elevatissima. Non solo, ma gli eventi legati a rotture strutturali in volo, malfunzionamenti di impianti, diciamo che sono estremamente bassi e non richiedono assolutamente l'installazione di sistemi particolari di sicurezza. Ultimamente però in aviazione generale negli aerei piccoli i costruttori hanno introdotto l'uso del paracadute balistico, un sistema veramente importante soprattutto nelle costruzioni di ultima generazione fatte di carbonio e materiale decomposito, dove i danni strutturali sono ancora più bassi ma possono portare a perdita del velivolo in volo. Quindi questo paracadute balistico installato nella fusoliera non fa nient'altro che attutire l'impatto col terreno e quindi garantire la massima, il 100% di sopravvivenza dell'equipaggio e dei passeggeri a bordo.